Immersa nelle Dolomiti di Brenta, la Schiaria Campiglio è una delle mete preferite per gli amanti della montagna, con i suoi 150 km di piste collegate. Ovviamente per avere le vacanze al top si consiglia di prenotare con il dovuto anticipo e questo vale anche per l'acquisto dello Schipass. Il consiglio è quello di andare online, cercare la settimana che si vuole scegliere e individuare anche la formula di prezzo più adeguata. Noi abbiamo il prezzo dinamico, quindi prima acquisti meno spendi e quindi quando si è deciso in che periodo andare in vacanza bisogna andare subito online e bloccare lo Schipass. Fra l'altro lo Schipass è garantito da un'assicurazione, quindi in caso di infortunio, malattia e quant'altro si può avere il rimborso totale dello Schipass. Quali sono le novità della stagione 2023? Le novità dal punto di vista commerciale appunto questo del prezzo dinamico, la card pay per use, per chi viene spesso qui nella nostra ski area, può avere questa star pass, che è uno stagionale all'incontrario, non bisogna anticipare nessun importo se non i 15 euro di attivazione, si paga solo quanto si scia, da un'ora a quattro ore al giornaliero, sempre la formula più conveniente, con una prima soglia 80% di sconto e una seconda soglia 100% di sconto, quindi quando si scia tanto si scia anche gratis. L'altra novità è un po' l'assicurazione RC Terzi, che è un'assicurazione che è obbligatoria e tutela in caso di incidenti, in caso di scontri, molto spesso questa assicurazione è già inclusa nelle proprie polizze assicurative, altrimenti si può fare tranquillamente in biglietteria online e quindi essere protetti e tutelati in tutti i sensi. Ragazzi, come sta andando la vacanza? Stiamo approfittando di queste belle giornate con l'anno nuovo per sciare e quindi ci stiamo godendo tutto il meglio che Madonna di Campiglio ha da offrirci. Che cosa vi piace qui a Campiglio? Sicuramente che hai sempre qualcosa da fare, tra le piste oppure anche l'aperitivo in centro, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti e dipende un po' anche dalle esigenze di ciascuno. Io per esempio mi trovo molto bene anche a prendere lezioni di sci, siccome sono una principiante, mentre lui che è un veterano ne approfitta per sciare su quelle piste un po' più impegnative. C'è un ambiente stupendo qua, giornate favolose, basta guardarsi attorno, c'è un movimento incredibile. Da dove viene? Buongiorno, vengo da Milano. Viene spesso qui a Campiglio? Sì, tutti gli anni vengo, fa la Stimana Bianca. Mi piace molto come zona, come comprensorio, scistico, è molto vario. E poi c'è un po' di vita in paese, si può scendere con gli sci fino in paese, quindi è molto comodo. Da Londra? Ma come mai viene qui a Campiglio? Perché ha scelto questa location? È il nostro luogo preferito, andiamo qui ogni anno, è bellissimo qui, sempre. Gli ospiti hanno delle richieste particolari, oggi si parla di allergie, di intolleranze, come andate incontro a queste esigenze? Sì, assolutamente. Abbiamo un menù per celiaci, il menù è scritto in tre lingue, bisogna per forza una bella cantina. Si punta sulla qualità, sui prodotti del territorio, metterci il cuore. Poi le nostre montagne ci aiutano perché siamo in un posto che già i clienti sono contenti. Basta quando arrivano cocolarli un attimo e il resto viene da sé.